Ma Denaro, secondo lei, è stato tradito o si è consegnato? È stato, diciamo, secondo me, tradito perché noi siamo stati avvisati che lo dovevano catturare e quindi può darsi che è un messaggio perché è la fine di quel famoso patto e papello che c'è che è incominciato negli anni 91-92 e stiamo arrivando a una conclusione. Perché, diciamo, è doloroso dirlo, ma specialmente, diciamo, chi collabora, ormai lo Stato, parte dello Stato perché nello Stato ci sono persone per me, però c'è qualcuno che non con me. Oggi c'è un'operazione che tende a non aiutare più la collaborazione. Sì, signore. E ne parleremo, però adesso io l'ho fatto una domanda. Se si è consegnato. Baiardo, si ricorda, Salvatore Baiardo, disse che sarà catturato. Baiardo ha mandato il messaggio che, logicamente, chi l'ha detto, ma lo sappiamo tutti, quelli competenti, sono i fratelli, diciamo... Graviano. Graviano. O può essere anche un uomo importante di Palermo, i Guttadauro che sono imparentati con Matteo Messina Denaro e che molti indicano come i nuovi capi della mafia. Ma il discorso è sempre là, insomma, che Messina Denaro, tutta quella propaganda che hanno fatto, ai fini fine non era, perché se noi, io ho ascoltato, per esempio, alcuni passaggi delle donne, ma un tempo i personaggi che avevano questa levatura, diciamo, di Messina Denaro non avevano, diciamo, questo comportamento collettivo.